Profumo di tangenti in casa EADS, holding di controllo di Airbus, primo gruppo aeronautico europeo. Secondo il Financial Times, il responsabile della società sarebbe stato al corrente di un versamento di tangenti a cittadini dell'Arabia Saudita in cambio di un via libera per l'attribuzione di un contratto di oltre 3 miliardi di dollari. I fatti risalgono al 2007 e riguardano lo settore spaziale attraverso una società fornitrice di servizi di comunicazione, la GPT. Una serie di e-mail inviati da un ex dipendente che metteva in allerta il vertice di EADS non avrebbero trovato risposta.